Siamo qua con Hethon Azzeni e Hans Lackner, degli Hethal Brothers, che sono i nostri sparring che sono venuti qua per i test match. Prima di tutto ci tenevo a ringraziarli e a far capire che queste persone sono qua per aiutarci e ci stanno dando una grande mano. Prima di tutto ci tenevo a ringraziarli e a far capire che queste persone sono qua per aiutarci e ci stanno dando una grande mano. Questa è la prima volta che si fa questo test match. C'è la prima volta che si fa questo test match? Come si sono sentiti con questo test match e come hanno visto Alessio e le risposte. C'è la prima volta che si fa questo test match e cosa puoi dire su Alessio? Alessio è molto forte e forte. E sono molto orgoglioso, siamo una grande famiglia per il test match. Alessio è molto felice di essere qui e lavorare in futuro. Allora voglio dire molto ad Alessio che si fa tutto il tempo che non si fa. Alessio è venuto ogni giorno per fare un bel match. Praticamente dice che ringrazia Alessio per l'opportunità che gli hanno dato. Lui ha trovato Alessio molto duro, molto forte, molto veloce. Gli piace il fatto che vengano considerati come una grande famiglia di allenamento. I ragazzi saranno disponibili a venire in qualsiasi momento Alessio voglia. C'è quale... vabbè allora io a questo punto ringrazierei e basta. Gli direi che veramente siamo noi che li dobbiamo ringraziare per questo. Perché in Italia è molto difficile trovare degli sparring e sono state le uniche persone che ci sono venuti in aiuto. Quindi per noi la porta è sempre aperta e... Allora vogliamo ringraziare a te perché in Italia è molto difficile trovare un grande sparring partner per Alessio. E per sempre che ti necessitano siamo qui. Grazie mille. Alessio conosce che siamo buoni e tanti. Alessio conosce che noi siamo dei bravi ragazzi e siamo dei bravi lottatori. Quindi siamo a sua disposizione. Ok, crede se ci vogliono dire qualunque ultima cosa. Gli vorrei dire la ultima cosa? Hans, vuoi dire qualcosa? Voglio dire grazie. Grazie per averci dato l'opportunità di fare sparring con i migliori fighter a livello europeo. Grazie. 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 Grazie.